Ciao a tutti, sono Alessandro di FeedExpress Rimini, anche oggi vi lascerò un workout da poter realizzare semplicemente a casa in attesa di poter tornare ad allenarsi nelle nostre strutture. L'allenamento consiste in un circuito di riscaldamento da 3 esercizi, 20 ripetizioni ciascuno da ripetere per 4 giri, vi mostrerò un esercizio intero per un 1 e un giro intero di riscaldamento. In seguito faremo un circuito armwrap, as many round as possible, degli esercizi che vi darò a 10 ripetizioni, sono 5 esercizioni, per ripetere per un tempo totale di 30 minuti. Cominciamo con il riscaldamento, il primo esercizio è un jumping jack con delle ripetizioni. Passeremo a 20 calci addominali. un'altra parte di riscaldamento. ripetere 4 giri poi passiamo alla parte centrale come detto il circuito arm wrap faremo 5-6 settazioni partendo dallo skater jump passiamo al diamond push up affondi con torsione addominale mountain climbers e il tutto per il circuito risultando un ivano o una sedia mi raccomando 10 ripetizioni di ogni esercizio per il mountain climbers sono 10 per gamba 30 minuti di lavoro seguite i canali di FitExpress e aspettate altri allenamenti buon workout a tutti grazie grazie grazie